Ciao a tutti i cuoricini, come state? Spero tutto bene, tutto bene, questo è un video in collaborazione con Serena del canale Serenity ASMR. Saluto Serena, grazie per la collaborazione e un bacio grande grande. Allora, questo è un video tapping, faremo del tapping su diverse superfici per creare un po' di relax. Poi prendete i vostri 5 minuti di pausa e rilassatevi, rilassatevi, rilassatevi. Iniziamo con il primo oggetto. Adesso, non lo so se facciamo nello stesso ordine, però io inizio con la plastica. Allora, questo è un cuoricino, un cuoricione, come voi, come voi cuoricini, di plastica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu rilassati, rilassati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo era il materiale di plastica. Adesso, passiamo con il vetro. Adesso, passiamo con il vetro. Schiacomo, passiamo con il vetro. Trazvi attorno. Grazie a tutti. C'è anche chi piace il tapping veloce, quindi proverò a fare un po' di tapping veloce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i bastoncini di legno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E poi è colorata con il colore lavagna e poi è appeso questa farfallina di legno. Mi scuso se sentite dei rumori, però è luna di notte e già c'è il callo che canta. Non riesco a capire perché non c'è mai un momento per la tranquillità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi, per la sessione latta. ho preso questa, ho preso questa candela, ho preso questa candela finita, su questa scatolina di latta. e la faccio questa candela finita. e la faccio questa candela finita. fa diversi suoni, dipende da quale lato. ripeto dal colore dal colore dal colore. e la faccio questa candela finita. Grazie a tutti. 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 Io vi auguro una buonanotte serena.